e voglio togliere questo perché fa già caldo guardate l'andrea quella moto lì è un disastro ne ha comprato un'altra che è più disastro e gli è andato anche a fuoco no ne ha comprato un'altra un ducati 7 e mezzo tu non sai quanti soldi ci ha speso nel ducati non ne hai un'idea ed è sempre fermo ma allora che senso ha io ho detto subito Andrea vendilo subito qualcosa lì no 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 lui testardo lui testardo e lo so però quando si è sceso come si è sceso che c'è quel torrentero eh no no si prendono qui poi venendo tagli di là tenuto a fare il passaggio stretto quello può essere venuto e poi? e poi ah due tagli si per forza dai questo da sotto perché si chiude ok no 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 entra Poi, aspetta, cominciamo a... Che taglia, oh! Piano, piano, ma... Si chiude, si chiude. Alla? Perfetto, perfetto. Tirano un attimo in nessù. Vedi che è già. Oh, le, andate. Ok, fermo lì. Si è già sgranato. Era poco tirato. Che cosa sei? Ancora mia, ma... Non so neanche se carica perché... L'ho portata, ma non... Ho detto, magari... No, si è spettato! Usandola, aspetta che la tiro un po'. Sì, vuoi. Sì, vuoi. Sì, vuoi. Hai fatto prima degli altri? Hai visto lo zanzo? Eh? Hai visto lo zanzo? Sì, sì. Ho detto dopo di ritornare indietro. Oh, sta bischia. Cin mila euro. Eh, un po' di più. Eh, un po' di più. Ho detto dopo che ho andato qui. Un po' di più. Che mezzo! Oh, che mezzo! sto! Sì! Sono inizi a chi chiude, eh! Eh, ma c'è Marco che... Sì! Sì! Che mezzo questo è? Guarda, sì! C'è un mezzo per farlo andare cinquanta e cinquanta euro. Eh, la madonna! È turbo, proprio! Vabbè, non esagerare! Ah, ecco! Questo aspetta, Marco. È un cilinato da sotto. Buono! Oh, burro, eh! Sì, no, non è che burro. È che taglia bene la lama. Taglia bene. Aspetta che la devo tirare ancora un po', perché sennò qua scappa di nuovo. Sì! Allora? Tutto bene! Ti vedo in forma, sono contento. Sì, sono andato più forte io che i zampini. Eh, è sicuro, guarda! Di sicuro! Purtavia è che la moto, eh! Dovete intenderci molto. Sì? Però sì, però... Non dava se. Non dava se. D'accordo, non ci vediamo che... Ma! cosa? ah si eh? bravo mettila lì ciao avete trovato? c'è qualcosa? c'è qualcosa in giro? tutto pulito? in giro sapete se c'è qualcosa? ma abbiamo trovato qualcosa là ma eravamo ancora sopra eravamo dentro le groaniche buona giornata ciao ti piace di più? ma sai come funziona bene? li abbiamo comprati con su Amazon su Amazon ho contattato un'azienda ciao